Si è tenuta presso la loggia del municipio la premiazione della settima edizione del concorso Mosaic Young Talent 2022, un progetto ideato dall'Associazione Naonis, realizzato in collaborazione con la Scuola Mosaicisti del Friuli, promosso e sostenuto dal comune di Pordenone. Sono intervenuti l'assessore alla cultura Alberto Parigi, il direttore della Scuola Mosaicisti del Friuli Gian Piero Brovedani e il presidente dell'Associazione Naonis, Guglielmo Zanette. Quest'ultimo ha presentato l'opera vincitrice, il ritratto in mosaico dedicato a Bruce Lee, realizzato dall'allieva cinese Niki Ge, giovane artista trasferitasi a Spilimbergo nel 2019, diplomandosi poi come maestra mosaicista. Siamo qui per le premiazioni del concorso Mosaic Young Talent, giunto alla settima edizione. Quest'anno abbiamo come vincitrice una giovane e brillante cinese, Niki Ge, che ha presentato Bruce Lee, questo nuovo quadro. Ciao a tutti, sono Niki, vengo dalla Cina. Sono cresciuta a Qingdao, una città di mare nel nord della Cina. Ho iniziato la scuola nel 2019 e ho finito quest'anno. Al terzo anno di corso abbiamo avuto l'onore di essere invitati alla mostra Mosaic Young Talent e io ho scelto di realizzare il ritratto di Bruce Lee perché lui è un'icona del Kung Fu cinese. È pieno di forza positiva. Premiato anche il lavoro del giovane mosaicista triestino Stefano Maroffino, già vincitore della passata edizione, che ha realizzato uno strepitoso ritratto di Audrey Hepburn. Sì, sono felice di ritornare al concorso appunto con questo ritratto quest'anno di Audrey Hepburn. Insomma, ho fatto molto volentieri, ci ho messo tanto del mio, lo stile un po' diverso, più glamour, più acceso. Però insomma è bello sperimentare anche tecniche diverse, materiali nuovi. due splendide opere d'arte che per oggi impreziosiranno la loggia del municipio. Ma questa premiazione è un preludio. Noi ci stiamo organizzando per proporre una nuova mostra di Icons of Art. Stiamo ragionando sul quando e sul dove, ma sicuramente la faremo anche perché risponde a una precisa politica dell'amministrazione, cioè quella di praticamente far sposare l'arte con i giovani e dar loro spazio. Quindi sicuramente questa è solo un'anticipazione per una mostra del futuro. Grazie a tutti.